Ben tornati a tutti dal vostro tecnomaniaco. In questo nuovo video andremo a vedere come riprodurre il vostro smartphone Huawei Honor direttamente su una Smart TV. Se disponete di una TV normale dovrete prima rendere la Smart e per farlo potete comprare anche apparecchi economici ma di ottima qualità come la Chromecast di Google o l'Amazon Stick. Riprodurre lo schermo del vostro smartphone sul TV vi darà una visione molto più ampia e inoltre oltre a trasmettere tutto ciò che state facendo e quindi vedere foto e video sul grande schermo potrete anche riprodurre la musica direttamente sulle casse del vostro TV e come vedrete è molto comodo. Prendiamo il telecomando del nostro Smart TV ed andiamo nelle impostazioni. Cerchiamo le opzioni di rete ed attiviamo la tecnologia Miracast che è quella che ci permette di trasmettere lo schermo del nostro smartphone sul nostro TV. Adesso il nostro schermo è pronto per essere trovato dal nostro smartphone. Abbassiamo la finestra delle opzioni e clicchiamo su Mirror Share. Lo smartphone vi chiederà di accendere il wifi se lo avevate spento e inizierà a cercare i dispositivi nelle vicinanze fino a quando non avrà trovato il vostro televisore. Questo processo in cui uno smartphone sfrutta lo schermo di un altro dispositivo è chiamato Screen Mirroring. Da come potete notare anche la televisione vi chiederà di confermare l'accesso allo smartphone. Possiamo anche autorizzare il nostro smartphone e il nostro TV a rimanere collegati in questo modo non dovremo ripetere tutta l'operazione ogni volta in futuro. Finalmente i due dispositivi sono collegati. Se scegliete un brano musicale vedrete che esso si riprodurrà utilizzando le casse del televisore. Il Mirroring è utile per rivedere le vostre foto su uno schermo più ampio o per mostrarle ai vostri amici e parenti. Insomma tutto ciò che passa sullo schermo del vostro smartphone sarà trasmesso sul televisore sia se state giocando sia se state utilizzando app di messaggistica e tant'altro. Quindi se ci pensate bene sarà come avere il sistema operativo Android sul vostro televisore. Ma nonostante tutti questi modi di utilizzare lo screen mirroring credo che il migliore resti quello di utilizzarlo per lo streaming di film o partite. Se poi pensiamo ad alcune app che possono essere installate anche sul nostro smart tv come ad esempio Netflix non possiamo tralasciare il fatto che scegliere una serie tv direttamente dallo smartphone con il touch è molto più comodo. Infine per scollegare i due dispositivi dovremo o spegnere la tecnologia Miracast sul nostro tv oppure premere disconnetti sul nostro smartphone. E con questo è tutto vi aspetto al prossimo video